Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco per parlare della questione rifiuti ai microfoni di TV City. Il consigliere delegato Luigi Mele spiega le cause dei disagi e risponde alle polemiche. Poi l'emergenza sanitaria nel Vesuviano, boom di guariti ieri a Torre del Greco, diminuiscono i contagi. Spazio anche alla cronaca, duro colpo allo storico clan Cutolo. 11 boss sono stati arrestati questa mattina alle prime luci dell'alba. Lunga intervista all'assessore con delega allo sport Giuseppe, speranza o preoccupazione per la Turris, ma tante iniziative in cantiere per l'estate. In chiusura l'iniziativa dell'AIC, i volontari hanno bonificato domenica mattina la spiaggia del Cavaliere. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Ancora disagio a Torre del Greco, regati alla raccolta di rifferenziata e rifiuti. In particolare, lunedì mattina la città risulta quasi sempre sporca. Ne parliamo oggi con il consigliere delegato Luigi Mele. Il problema del lunedì è un problema che abbiamo da quando abbiamo iniziato il servizio porta a porta, o meglio da quando hanno iniziato il servizio porta a porta, perché ricordo sempre a tutti gli amici che ci seguono che io sono appena tre mesi che mi sto occupando direttamente di rifiuti e di NU. Praticamente, siccome sappiamo bene che il sabato sera non si deposita e invece purtroppo i nostri concittadini continuano a depositare e la domenica quindi è un giorno di festa per i lavoratori della nettezza urbana, chiaramente lunedì andiamo in sofferenza e ci ritroviamo la città nelle condizioni in cui abbiamo visto ieri. Stamattina abbiamo fatto un incontro con la ditta per capire come poter risolvere questa problematica. Chiaramente abbiamo individuato una soluzione della quale chiaramente dobbiamo capire le possibilità rispetto al contratto attualmente ancora in essere, se è possibile attuarlo oppure no. Non voglio anticipare perché vogliamo prima capire la fattibilità. Se riusciamo effettivamente a portare avanti questa cosa, che sicuramente è un progetto che potremmo applicare sul centro storico dove abbiamo più difficoltà a far capire alle persone come va differenziato e quindi anche per problemi di spazio veri e proprio, chiaramente potremmo avere una soluzione importante per la nostra città e quindi non ritrovarci nelle condizioni in cui siamo il lunedì. Quello che sembra mancare sono anche i controlli, soprattutto in questi giorni in cui il sistema di raccolta è assente? Certo, chiaramente sappiamo benissimo che gli uffici comunali sono sottodimensionati, l'abbiamo detto più volte. Dall'altra parte c'è un nucleo di vigili che segue un po' i problemi della NU, però chiaramente i vigili alle 8 vanno via e quindi non riusciamo a seguire quelli che sono gli sversamenti che avvengono soprattutto nelle ore notturne. Stiamo cercando di programmare uno straordinario anche per i vigili, in maniera tale da poter prolungare l'orario di lavoro. Dall'altra parte con la dirigente della nettezza urbana stiamo provando con un bando, quindi dovremmo approvare in bilancio la somma necessaria per poter destinare alle associazioni e ai comitati di quartiere la possibilità di formare delle persone che possano fare sensibilizzazione sul territorio con un rimborso spese che chiaramente sarà quello previsto dalla norma. Per quanto riguarda invece la questione centroservizi, ci sono novità? Proprio ieri ne abbiamo parlato con il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Catano Fruglio. Faremo a breve una riunione di maggioranza per capire un po' quelle che possono essere le richieste da parte di ognuno, le istanze che magari loro raccolgono da parte dei cittadini e capire in che modo magari va modificato il progetto attualmente già approvato da tutti gli enti sovraordinati e se è possibile migliorarlo nelle forme in cui ci siamo detti, quindi eliminando l'umido prevedendo quindi soltanto la raccolta del secco, dando la possibilità così alle persone del territorio che hanno la necessità di dover buttare ingombranti o materiali inerti che oggi la grossa difficoltà qui a Torre del Greco è quella di dover buttare i materiali inerti. Chiaramente chi ha la necessità di cambiare un lavabo o un vaso all'interno dei propri servizi genici ha difficoltà a dover martire queste cose. Quindi questa è una cosa che assolutamente va fatta. Duro attacco ieri del consigliere Caldarola con una lettera inviata all'amministrazione. Beh, diciamo che chi sta all'opposizione chiaramente deve fare opposizione e lascia il tempo che trova. Io l'ho detto sempre, fin dal primo momento, e lo facevo anche quando stava all'opposizione, cercare di dare i giusti suggerimenti e non fare campagna elettorale, diciamo così, perché intanto siamo lontani dalla campagna elettorale, è inutile. Diciamo che io consiglio ai consiglieri attuali di opposizione, proprio perché è una maggioranza, di portare dei progetti, magari da poter attuare, anziché perdere tempo a fare cose che dal punto di vista politico sono solo strumentali e basta. In conclusione, sempre parlando di una possibile e futura campagna elettorale, ci sono possibilità per una nuova candidatura a sindaco per lei? In questo momento penso a lavorare per la città, poi si vedrà in futuro. Boom di guariti nei comuni del Vesuviano. Sono 80 le persone guarite da Covid-19 a Torre del Greco, nella giornata di ieri. Si registrano al contempo 16 nuovi casi, al momento in isolamento domiciliare, e due decessi. Avevano 68 e 64 anni. Muta quindi il bilancio dei contagiati, con 294 attualmente positivi, di cui 18 gli ospedalizzati. Un solo nuovo caso positivo a Torre Annunziata su 37 tamponi effettuati. Sono invece 3 le persone guarite. Resta basso il numero di cittadini attualmente positivi, che si attestano intorno ai 76. Castellammare registra tre nuovi positivi, tra cui un bambino di 9 anni, su 66 tamponi effettuati. Le guarigioni sono invece 32. Continua a migliorare la situazione dei contagi a Portici, con un numero di guariti superiore ai contagi. Nel dettaglio, la settimana che va dal 3 al 9 maggio, su 1717 tamponi effettuati, sono risultati positivi 90 cittadini di Portici, per una percentuale del 5,24%. Mentre le guarigioni registrate sono 127. Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cartolari personali, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno proceduto all'arresto di 11 persone, 9 tradotte in carcere, 2 agli arresti domiciliari, e dalla sottoposizione all'obbligo di presentazione all'APG di un'altra persona, poiché ritenute gravemente iniziate dai delitti di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, di tentato a omicidio e di porto abusivo di armi. Delitti tutti commessi al fine di agevolare gli scopi criminali del gruppo camolistico facente capo alla famiglia Cutolo, radicato ed operante nel rione Traiano, nell'area occidentale della città di Napoli. Il provvedimento cautelare è stato messo all'esito di una complessa attività di indagine eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Napoli Bagnoli e coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica di Napoli, che si inquadra in una più ampia strategia di contrasto ai gruppi camolistici operanti nell'area fregrea, sotto influenza dello storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. I dati probatori a sostegno delle missioni dell'ordinanza cautelare hanno permesso di ricostruire l'esistenza e l'operatività del gruppo camolistico capeggiato da Carragennaro Cutolo Vincenzo, figlio di Salvatore e di Ostinato Giuseppina, e di Pietro Luongo Francesco, nell'area territoriale del rione Traiano, facendo luce sulle dinamiche e sulle finalità associative, traffico di stupefacenti ed estorsioni, nonché sulle modalità di gestione della cassa comune, funzionale anche a mantenimento degli affiliati detenuti e dei loro familiari. In particolare è stato ricostruito un consolidato sistema di approvvigionamento e smistamento di sostanze stupefacenti che attraverso la gestione delle piazze di spaccio ubicate nel rione Traiano permettiva di commercializzare al dettaglio ingenti quantitativi di droga, cocaina, marijuana e hashish. Il provvedimento cautelare, inoltre, prende in esame gli elementi di prova raccolti a fondamento della responsabilità degli indagati, entrare nel predetto gruppo camolistico per il tentativo di uccidere Minichini Francesco, in quanto appartenente all'avverso gruppo criminale facente capo a Marfella Giuseppe, da inquadrarsi nell'ambito della contrapposizione armata tra le due organizzazioni camorristiche per il controllo delle attività illecite nel rione Traiano. Tra gli indagati tratti in arresto vi sono Mazzaccarlo Giuseppe, l'evento di vertice del gruppo camorristico facente capo alla famiglia Soria Agnello, quale fornitore di sostanza stupefacente attivo nel rione Traiano. Ostinato Giuseppina, conge di Cutolo Salvatore, capo storico ed indiscusso del gruppo Cutolo e Calone Antonio, detto Tonino di Posillipo, affiliatosi con un ruolo apicale al gruppo riferibile a famiglia Cutolo, pur conservato il controllo criminale del quartiere di Posillipo. Lunga intervista all'assessore con delega allo sport Peppe Speranza, sulla nuova Cherelle, nata tra la Turis e l'amministrazione comunale. C'è preoccupazione in città, specialmente fra i tifosi e la Turis, dopo la decisione di mettere in vendita la società. Quali sono le possibili conseguenze per lo stadio, soprattutto? Ci sono degli interventi da fare allo stadio riguardo l'omologazione, che puntualmente ogni anno va fatto, e ieri abbiamo definito, ecco, una quota che preleveremo dal fondo di riserva per le spese da farsi sullo stadio, per l'omologazione e per le attrezzature di prefiltraggio. Quindi credo che da qui a qualche settimana siamo già pronti per la risoluzione di questa questione. Riguardo le preoccupazioni dei tifosi circa il cambio di gestione della Turis, credo che l'amministrazione può fare quasi niente o ben poco. Se un'azienda o un imprenditore decide di lasciare per i suoi legittimi motivi che può avere, non credo che un'amministrazione locale si possa intromettere e dire la sua. L'amministrazione fa la parte dell'amministrazione, la società fa la parte della società. Quindi al netto dei cambi della società lo stadio dovrebbe essere sicuro? Stando a quello che abbiamo definito ieri definitivamente, non è che prima non lo era. Anzi, credo che negli ultimi due anni e mai nella storia sportiva della nostra città calcistica si siano spesi tanti soldi per la struttura del Liguori. Solo così per dare qualche numero, negli ultimi due anni si sono spesi all'incirca 2 milioni di euro, che sono pari ai vecchi 4 miliardi. Quindi voglio dire l'attenzione da parte dell'amministrazione per quanto riguarda il calcio a Toro del Greco e soprattutto per quanto riguarda la prima squadra c'è, nessuno la può negare. Parliamo sempre di sport, un settore che ovviamente nell'ultimo anno ha subito una battuta d'arresto. Ci sono delle iniziative per far ripartire magari anche le piccole attività come le palestre? Sicuramente, noi non a caso abbiamo chiamato Restart, la ripartenza in città di attività sportive. Avremo una serie di manifestazioni che vanno dal Triathlon, che per la prima volta verrà a Toro del Greco, lo faremo credo tra fine agosto e inizio settembre. Avremo una serata estiva di raduno di Mundan Bike, che praticamente avremo questa manifestazione fatta per il centro storico, che sarà una cosa molto simpatica. Io ero dell'avviso di farla nella parte piedemontana, invece l'organizzatore mi suggeriva di farla in notturna e farla in città e la trovo una cosa molto simpatica. Avremo la tappa finale del Giro in Rosa della Campania e la vincitrice praticamente parteciperà alle Olimpiadi. Poi abbiamo qualche gara bodistica, così come anche avremo Urti al Triathlon. Ecco, un'altra manifestazione importante a cui tengo in particolar modo, un raduno di Pugilato, che forse faremo all'aperto in una delle serie d'estate. Volontari bonificano la spiaggia del Cavaliere. Domenica 9 maggio sono scesi in campo 70 volontari, tra cui le associazioni AEC, Associazione Ecoculturale, Madre, Fenice, Greenpeace, C.I.E.T., Radio Siani, Gruppo Scout Torre del Greco, Controcorrente e Onde Creative. Tutte associazioni provenienti da Torre del Greco, Napoli, Pozzuoli e dall'Agronocerino. Dalle 9 del mattino alle 14 hanno tutti lavorato incessantemente per ripulire dai rifiuti il tratto costiero di Torre del Greco, noto come Gildarella, Cavaliere. Oltre ai volontari attivi sulla spiaggia, sono stati coinvolti anche operatori del centro-sub Torre del Greco ed Arcipesca, che via mare hanno contribuito nella bonifica del fondale. Il tutto con il supporto costante della Capitaneria di Porto e con il patrocinio del Comune di Torre del Greco. I volontari hanno raccolto oltre 100 sacconi di rifiuti plastici, tra cui ciabatte, polistirolo, giocattoli e molte bottiglie, e tanti altri scarti abbandonati sulla spiaggia e in mare. Inoltre sono stati rinvenuti circa 300 kg di ingombranti, fresti in torica, cartongesso e vetro resina. In totale, una tonnellata di spazzatura occupava il breve tratto della spiaggia storica torrese. Questa è stata la quinta tappa del progetto Cambiamola Noi, in cui i giovani volontari dell'AIC ripuliscono zone storiche di Torre del Greco, troppo spesso abbandonate al degrado e all'inciviltà. Aree come il sito archeologico delle Centofontane o la passeggiata Portoscala, tutti simboli delle ricchezze culturali e paesaggistiche della nostra città, ma costantemente simbolo di incuria e abbandono. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro OTG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.